May the Force, Be With You, 4 maggio 2014, Star Wars Day in Italia, il primo e siamo al Colosseo di fronte al caccia di guerre stellari. Una giornata molto ventosa, vedete però il tempo sta reggendo, ricordo appunto che tra poco inizierà l'evento, alle 10.30 siamo al Colosseo, qui possiamo inquadrare in regia il Colosseo, l'arco di Costantino e tra poco vedremo, oltre che degli spettacoli di cosplay, cioè di costumi in stile guerre stellari, lì possiamo anche inquadrare per esempio un Cavaliere Jedi e altri personaggi tipici di Star Wars. Appunto oltre a questo ci saranno anche degli spettacoli, degli intrattenimenti e abbiamo visto anche un piccolo palco. May the Force, Be With You, quindi il force gioca con la parola force in inglese, force, force, è una alliteration, possiamo dire, un suono simile. Ed ecco qui un dettaglio del caccia che compare già dalla prima, possiamo definire la puntata, episodio, negli anni 70, fine anni 70, di Guerre Stellari. Quindi è il della Lucasfilm, quindi un colpo d'occhio e poi riprenderemo tutto quello che sarà l'evento vero e proprio. A dopo.